Vi presento Questbase, applicazione per realizzare test, quiz, verifiche per valutare esami e certificazioni. L'obiettivo è di valutare le conoscenze. Il test assume un aspetto formativo se si dà la possibilità agli studenti di rispondere più volte alle domande. Noi andiamo adesso a registrarci al sito e quindi questa è l'interfaccia di Questbase.com. Bisogna fare la registrazione, come vi dicevo, e poi si fa login. Ok, avviando Questbase entro nella mia dashboard e ho la possibilità di aggiungere studenti con il tasto aggiungi, oppure di aggiungere questionarii. Posso aggiungere un questionario e anche una cartella. Potrei volere infatti organizzare i questionarii per classe o per tipologia di disciplina. Aggiungo un questionario, do un titolo al questionario, lo scriverò questionario di prova. 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 Vado avanti e do una descrizione. Questo è un questionario di prova. Prova. È interessante mettere le parole chiavi che permetteranno poi di recuperare il questionario nel database. Posso inserirlo nella cartella generica i miei questionarii o in una cartella sfogliando che ho creato precedentemente. Lo lascio nella cartella generica, vado avanti, mi dice che tipologia di questionario è, se è un test didattico, un test psicologico, un sondaggio e altro. Se voglio pubblicare un test didattico, se voglio pubblicare online un questionario o su carta, metto entrambi, crea. No, non metto crea, scusate, torno indietro. Vado avanti e mi dice di, se voglio visualizzare domande in ordine casuale, metto spunto di sì, le risposte in ordine casuale, potrei impostare il tempo e imposta il punteggio per il disuperamento e lascio il 70%. Potrei anche mettere una password di protezione, permettere un solo svolgimento di default, lascia la possibilità di provare il test più volte. E questa è una modalità opportuna, se il test è formativo. Dice, se voglio richiedere dati personali, se voglio chiedere i dati personali, che possono essere, ho la scelta nome e cognome oppure il nome. Nome e cognome va bene, questi dati sono obbligatori. Ok, vado avanti, poi mi chiede se voglio aggiungere messaggi personalizzati, è meglio aggiungere messaggi personalizzati, ad esempio all'inizio del questionario, per dire finalità del questionario e alla fine per ringraziare gli studenti di aver partecipato al questionario. In questo caso sento di prova, non metto messaggi, vado avanti e poi mi chiede se voglio condividere questo questionario, posso mettere no, oppure si lavorerò con altri utenti. E' una modalità, questa molto interessante per collaborare con i colleghi. Metto no perché è di prova, vado avanti e mi dice che tutte le informazioni sono state create e quindi creo il questionario, crea il questionario. E posso aggiungere ora le domande, ho la possibilità di scegliere tra scelta multipla, vero o falso, vero o falso multiplo, inserimento, testo libro, testo fisso. Scelgo scelta multipla e vado avanti e quindi metto la mia prima domanda. E quindi vado avanti, questo è il testo della domanda e qui aggiungi risposta, aggiungi risposta. La prima risposta è che è quella esatta, è attività domestica degli studenti, la spunto come esatta e do il conferma. Aggiungi un'altra risposta che potrebbe essere, potrei mettere attività per realizzare didattica flip. non è la risposta esatta, quindi non spunto e poi aggiungo un'altra risposta che potrei mettere attività di ascolto video interattivi. Ok, confermo, questa domanda non ha una risposta esatta, è un assurdo, quindi vado avanti e la risposta è obbligatoria e potrei anche voler mostrare le risposte in ordine casuale agli studenti, va bene. Vado avanti, potrei aggiungere una risorsa, in questo caso un collegamento, un file, in questo caso non aggiungo nulla perché è di prova, avanti. Non andate troppo avanti, vuoi assegnare un punteggio, in base è sì, lascio uno e serata zero. Vado avanti e quindi posso andare indietro per rivedere e modificare le informazioni inserite oppure crea. ecco, la domanda è stata aggiunta con successo, faccio clic qui per aggiungere un'altra domanda, questa volta aggiungo la domanda vero-falso, vado avanti e metto pnsd sta per piano nazionale scuola digitale ok, vado avanti e il vero è la risposta esatta, quindi confermo, vado avanti e la risposta è obbligatoria, vado avanti, potrei aggiungere delle risorse, ad esempio il link alla pagina web, non metto nulla in questo momento, vado avanti, assegno un punteggio, uno se è esatto, la risposta, vado avanti e qui mi dice che ho creato, crea la seconda domanda, ho fatto solo due domande, in questo caso per questioni di tempo e quindi non aggiungo un'altra domanda, se lo volessi fare lo farei da qui, ma chiudo e quindi ho questo questionario di prova che mi compare anche nella barra laterale, allora il mio questionario di prova, posso qui aggiungere una nuova domanda oppure una nuova cartella di domanda, eccetera, andiamo a visualizzare l'anteprima online del questionario come apparirà agli studenti, quindi vedete che questo è il questionario che ho creato ora, che potrei poi inviare e per finire volevo dirvi che dopo aver visto l'anteprima online posso vederlo anche come verrà stampato su carta e poi ho l'opzione pubblica e questionario online oppure stampalo su carta, interessante è la possibilità di visualizzare lo svolgimento, gli svolgimenti, le risposte date e i risultati. Buona giornata!